Nell'ambito del 47esimo congresso di medicina fisica e riabilitativa affronto insieme ai colleghi il problema della cronicità. La cronicità è un problema emergente nel sistema sanitario nazionale. Circa l'85% dei bilanci regionali è speso in sanità e l'80% della spesa sanitaria riguarda la gestione delle malattie croniche. Questo ci fa cambiare un attimino l'approccio rispetto alla malattia che non viene più inquadrata come evento singolo a sé stante al quale poi si trova una soluzione in termini di guarigione o di exitus ma in un qualche cosa che dura nel tempo e che ci presenta purtroppo gestionalmente il problema di erogare interventi sanitari ripetuti nel tempo. Quindi è una sfida che epidemiologicamente è in aumento e una delle grandi sfide del sistema sanitario nazionale attuale. Che cosa può fare la medicina riabilitativa in questo ambito? La medicina riabilitativa dispone di un approccio che non è più biomedico ma è biomedico psicosociale e di conseguenza l'approccio ICF che ci fa capire quanto dobbiamo investire dal punto di vista ambientale e dei fattori che sono in grado di condizionare positivamente per l'evolversi della malattia. Questo approccio è sicuramente proprio delle discipline olistiche ma in particolare della medicina fisica e riabilitativa. Quindi è un programma personalizzato da costruire per queste persone e soprattutto l'intervento sugli stili di vita per poter mantenere nel tempo quello che la medicina riabilitativa ha concesso di recuperare in termini funzionali. Ecco, questo è un pochino la sintesi del nostro modo di ragionare in ambito della medicina della cronicità. Grazie.